Continuano gli aiuti da parte di Chieti, come si è organizzato il Comune per dare un sostegno all'Ucraina anche a distanza? Subito come Comune di Chieti, questo grazie all'intervento del Sindaco e dell'Assessore Maretti e delle attività della protezione civile, ha predisposto un tavolo per coordinare quelle che sono le due realtà cittadine ad oggi che stanno provvedendo dalla raccolta di beni di prima necessità, sia la comunità ortodossa della Chiesa di Sant'Antonio che Betel Italia. Entrambe le realtà stanno provvedendo e in questi giorni stanno inviando i primi beni, i primi carichi di beni in Ucraina, grazie anche alle numerose associazioni, realtà politiche, prende i giovani democratici o l'associazione studentesca 360 gradi che ha aperto un punto in accordo con Betel Italia all'interno dell'università. Tutti quanti insieme alla comunità teatina, dagli studenti appunto ai cittadini, stiamo cercando di fare il possibile per sostenere un popolo che ha assolutamente bisogno di aiuto e che Chieti vuole in qualche modo contribuire ad aiutare. Dove si possono portare, qualora si volesse partecipare alla raccolta di beni, dove si possono portare medicinali e quant'altro? Allora, attualmente i punti sono tre, si trovano tutti a Chietiscano in questo momento e sono la comunità di Sant'Antonio, la comunità ortodossa, Betel Italia che ha due punti, uno in via Pescassero e uno presso l'azienda ESA nella zona industriale e il punto dell'emeroteca del polo di lettere dell'associazione 360 gradi. Che tipi di beni occorrono? Quali sono i beni più richiesti e soprattutto dove vanno consegnati? Allora, vanno consegnati alla nostra sede che sta in via Pescassero e 12, chiediamo generi di lunga conservazione, beni di lunga conservazione, praticamente ci chiedono scatolame, ci chiedono riso, ci hanno chiesto olio, quindi medicina, hanno bisogno di medicina, di garze, di disinfettante, niente, questo è quello che ci sono chiedendo, antinfiammatori sì, grazie anche a ESA che ci ha dato il locale, ESA Gruppo ci ha dato il locale dove possiamo depositare e preparare i bancali per raggiungere poi l'Ucraina.